In tema di presentazioni automobilistiche le casse costruttrici sono sempre all'avanguardia e inventano sempre qualcuna. Vediamo cosa si è inventata Seat per presentare in anteprima mondiale la nuova Arona. La Seat Arona è arrivata. L'ultima creazione della cassa spagnola è stata svellata durante un evento stampa tenutosi a Barcellona, alla presenza di giornalisti provenienti da tutto il mondo. La Seat Arona sa essere elegante, spaziosa e confortevole durante la settimana lavorativa e nel contempo avventurosa, robusta, sportiva ed efficiente nel fine settimana. Il tutto combinato con tecnologie per la sicurezza e la connettività appartenenti a segmenti superiori, l'inconfondibile design Seat, oltre alle numerose soluzioni di personalizzazione che offre il nuovo modello, nonché il dinamismo e la raffinatezza del DNA sportivo che contraddistinguono il marchio spagnolo. La Arona, prodotta esclusivamente a Martorell, rivestirà un ruolo fondamentale per la Seat, contribuendo a rafforzare il marchio e aumentare le vendite. Grazie.